Non riuscivo a parlare, sei ricollato? Ciao, come stai? Benissimo, carica, carica. Sei carichissima? Sì, bisogna. Non ti chiedo cosa stai facendo qua, perché? Si chiama la nostra amica e da dove arriva? Non lo voglio sapere, non lo voglio sapere come ti chiami. Cosa sei venuta a fare qui? A festeggiare qualcosa con le amiche, in compagnia. Non è carnevale? Più o meno, perché non sono io. Allora, benvenuti, stiamo festeggiando il carnevale del convento, sì? Sì, esatto. Quindi anche le amiche? Anche le amiche, le amiche sì. Tutto uguali? Sì, tutto uguali. Allora, noi stiamo scherzando perché qui al convento si scherza, si ride, si festeggia. Tu sei venuta a festeggiare il mio lecca-lecca. Che ti sposi con? Luca. Luca, mio figlio. Oh, ma allora, aspetta un attimino, state, non ci provare, sai. Sei ricca? Ah, abbastanza. Allora va benissimo, Luca, hai fatto un bel acquisto. Senti, quanti siete stasera? Sei. Sei, arrivate tutte. Carlo, come si chiama? Da dove arriva? No, lo voglio sapere. Alla fine lo voglio sapere. Allora, da dove arrivate? Da San Benedetto Pò, in provincia di Mantua. Allora, scusa un attimino, ripeti? San Benedetto Pò, dalla bassa. Un po' più lento perché la gente non capisce. San Benedetto Pò. Provincia di? Mantua. Benissimo. E allora come ti chiami? What's your name? Stefania. Perché la gente non capisce a casa. E ti sposi con Luca quando? Il 5 agosto. A che ora? Alle 17.30. Hai già pensato a tutti i regali? Lista nozze. Mamma? Lista viaggio. Mamma e suocera hanno già pensato a tutto? Sì, bisogna. Un attimino, fra noi, qual è il più bel regalo che hai ricevuto fino adesso? Che hai già sbirciato? Tanti soldi. Da parte? Rimane tra noi, eh? Papà. Papà. Tuo papà? Mio papà. Mannaggia la miseria. Mannaggia la miseria. Sono ricca. Ci vediamo più tardi. Va bene. Mi presenti tu papà? Scusa, è milanista? No, assolutamente no. Che squadra tiene? Siamo tutti juentini. Italia. Per il momento è tutto da DJ Carlone, la simpaticissima Stefania. E tutte le amiche, mi fate uno? Non sono arrivato da tre, stanno arrivando. Dove sono soffermate? Sto parcheggiando. Sono nel parcheggio del convento, speriamo che trovi una strada perché... Noi avevamo un po' fretta. Ti è piaciuto l'ingresso? Tantissimo. Va bene, ok, saluta a tutti. Ciao. Ciao. Ti posso offrire un le calacusato? Non te lo posso offrire. Ma adesso si può fare così?